Terminerà entro questa settimana l'asfaltatura di Via Fratti, una strada che da mesi avanza continui stop and go di viabilità dopo il precedente intervento di ammodernamento alle condutture di acqua, luce e gas. Via Fratti che però è solo una delle decine di tratti stradali della città di Pesaro interessati da restyling durante queste settimane. Il comune a partire dallo scorso mese di settembre ha avviato un piano asfalti con investimenti per un milione e 300 mila euro che si aggiungono ai circa 400 mila già stanziati per la manutenzione straordinaria degli interquartieri. Asfalti che sono senza quartiere da via Passeri in centro a via Lombrosa Muraglia, dalla panoramica San Bartolo fino a via Togliatti e via Solferino. Tante zone della città per un comune che ha dato precedenza alle strade in prossimità delle scuole ma non mancano però i cittadini che continuano a segnalare a Rossini TV strade ammalorate e piene di buche molto pericolose per chi procede in bicicletta o in scooter. Una situazione aggravata da un settembre con diverse precipitazioni. Ci sono infatti buche in zone centrali come in via della liberazione a pochi passi da ospedale caserma oppure altre buche e strade dissestate sono quelle eredità dei lavori di posa della fibra ottica ultraveloce che ha lasciato solchi difficilmente tollerabili dai residenti. Particolarmente ammalorata la zona di Soria in via Gattoni e quella di Tombaccia fra via Carpegna, via San Marino e via Pennabilli. Strade pericolose sulle quali i cittadini vogliono accendere i riflettori utili per inserirle nella già fitta agenda di interventi.